be 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 cose stranissime magari alle persone più sensibili forse sconsiglierei di guardare questo video iniziamo con il video oh mio dio vieni a vedere questa parte vedete questi frutti gialli verdi vabbè a seconda della maturazione quelli rossi sono logicamente più maturi di quelli verdi comunque questa è il gazzum italicum viene comunemente detta anche diciamo il bene dei serpenti è una pianta simpatica cioè ha praticamente un bulbo al di sotto che la fa sponzare ogni anno no 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 quello che vedete all'esterno bianco che appunto meglio dire qualcosa altrimenti penseranno che sei stupido protegge eh va bene cervello tu non piaci a me e io non piaccio a te ma facciamola questa cosa anche toccarla semplicemente infatti non la sto toccando sarebbe abbastanza pericoloso oh you touch my ta la la mmm my ding ding dong pronto buoni comunque spero che questa piccola parentesi conoscitiva vi abbia fatto conoscere qualcosa di nuovo e andiamo a cercare effettivamente qualcosa cosa vai qua mostro mi da un segnale forte non sono bastoncini questi sono ossa ma sono ossa è ossa dei morti che si lanciano contro il nemico hai capito un altro osso sarà tipo una base un fornelletto quelle sono le ossa di qualcosa che si sono mangiato qualche pollo ci sarà tipo una botola se che sa è una botola se che sa tipo l'osso dammi i guanti era un segnale per la fogna questi cosa l'hanno visto perché stanno facendo i lavori è un tesoro un tesoro wow boom baby armi da fuoco cartucce per armi non è male che abbiamo trovato un coltellino chiaro oh mio dio oh my god che cacchio era quella scena lì rivediamola che è troppo bella oh mio dio no vabbè probabilmente qualcuno di voi l'avrà già vista ma è qualcosa di epico allora ci sta asso di temari oh mamma sto cagando in mano ogni tanto sento dei rumori non penso mai sia sasa impossibile che sia però però ho trovato pure porco mio non lo so comunque se c'è qualcuno qualcosa hanno hanno fatto bestemmino ogni giorno su youtube che non mi è mai successo niente fortunatamente fino ad ora cosa cosa riguarda questo questo rituale lo ributto dentro era però va bene è stato bello vai mona cortesia simpatia porco dio vai casino vaffanculo sento degli strani rumori forse è la suggestione però andiamocene ne voglio andare assolutamente scattiamo grazie